Buonasera, buonasera da Stefano Bandecchi e dall'imprenditore e gli altri. Come tutti lunedì ormai da moltissimo tempo l'appuntamento fisso con questa trasmissione che vuole essere un po' una trasmissione di rottura tra le trasmissioni che vedete tutti i giorni, quelle fatte dai bravissimi giornalisti e da tanti esperti, questa trasmissione è un po' di rottura perché invece è fatta da un imprenditore che spesso intervista i giornalisti e quando non intervista i giornalisti questo imprenditore intervista i professionisti. Certo è che l'imprenditore e gli altri ha una differenza rispetto a tutte le trasmissioni che sino ad oggi forse avete potuto vedere. Quale? Che le domande che facciamo noi, che faccio io, sono le domande che farebbe l'uomo che cammina per strada, sono le domande che fa il non professionista, sono quelle curiosi idee che abbiamo tutti e anche stasera ce ne toglieremo tante e lo faremo in scompagnia tanto per cominciare dei miei due, li chiamerei tutti e due co-conduttori insomma a questo punto. uno addirittura il direttore della testata giornalistica dell'università Niccolò Cusano di Cusano TV di Radio Cusano Campus. Noi facciamo le domande normali. Lei è quello che fa le domande giornalistiche, le domande giornalistiche si differenziano da domande che faccio io perché durano sei mesi e poi hanno già la risposta dentro, non puoi sbagliare. Comunque già Luca Fabio. E poi invece abbiamo, e qui mi verrebbe sempre in mente una piccola, era per ultimo Alan Ford, che di tutti è il più bello, lui sta lì proprio per quello, è nel gruppo TNT, ma non è così, non siamo il gruppo TNT, il professor Fabio Fortuna, rettore dell'università Niccolò Cusano e così abbiamo presentato oggi la trasmissione. Rettore stavamo parlando prima, prima di entrare in trasmissione, io le stavo esternando i miei dubbi un attimino sul Covid, lei giustamente però ha detto una cosa, Gianluca vorrei che anche per lei fosse la riapertura, come la definire? È un rischio necessario, non ragionato, calcolato perché il rischio è un evento avverso che non si può influenzare in alcun modo, io direi era necessario, quindi il rischio, avrei utilizzato questo aggettivo. Draghi ha usato il rischio calcolato, dal mio punto di vista è un po' anche uno simolo linguistico, un po' contraddittorio, perché il rischio non può mai essere calcolato fino in fondo. Draghi ne è consapevole, però ha deciso che da oggi cambiavano un po' le cose, però io se posso dire l'effetto psicologico che c'è stato nella collettività, quello non è stato molto calcolato, io avrei fatto un pochino più di attenzione, avrei rimarcato determinati aspetti, questa sera sono passato davanti a un ristorante, non dico ovviamente due, neanche che è un ristorante che aveva gli spazi all'aperto e c'erano le macchine parcheggiate che arrivavano a centinaia e centinaia di metri di distanza, era letteralmente preso d'assalto ed è un lunedì sera, quindi presumibilmente ragazzi giovani, insomma siamo in una situazione dove il governo prende una decisione e una parte della comunità scientifica che tra poco ascolteremo non è proprio entusiasta di questa decisione. E infatti facciamo entrare in trasmissione il non entusiasta, cioè il professor Massimo Andreoni, direttore malattie infettive policlinico Tor Vergata, il professore mi scuserà per questo non entusiasta voglio dire. Buonasera a tutti, grazie del cortesissimo invito diciamo, io per natura sono un entusiasta certo ha ragione lei a dirmi non entusiasta di queste scelte perché sono scelte secondo me pericolose ma insomma di questo parleremo diciamo. Ma Andreoni si ricorda, io se non sbaglio, tempo fa io e lei eravamo sempre in questa trasmissione le chiedo anche a voi, non vorrei sbagliare e parlavamo del fatto che gli indiani, cioè in India si era raggiunta, così ci ricevano l'immunità di gregge, era gennaio e si parlava del fatto che in India il covid era passato, era arrivato, se n'era andato, non c'era più forse il vaccino, forse l'aglio qualcuno diceva, mangiavano molto aglio, cioè ognuna ha detto quello che voleva, in quattro giorni abbiamo un milione e mezzo di malati nuovi in India e un numero di morti ormai spropositati. Ma devo dire che in alcuni paesi in cui ovviamente la sanità ha grandi sofferenze, quello che accade è molto difficile a sapersi, quindi non è che noi siamo abituati a discutere 300.000, 400.000 tamponi, l'Inghilterra addirittura poche settimane fa ne ha fatte un milione e 300 mila di tamponi in una giornata nonostante che l'infezione fosse sotto controllo. Ecco in India il numero dei tamponi non si dice perché virtualmente non si fanno, diciamo, ecco quindi quello che accade in India finché non è scoppiata l'epidemia nessuno lo sapeva e nessuno lo poteva in qualche modo averne contezza, essere diciamo certo di quello che stessa accadendo. Certamente i dati di questi giorni sono dei dati impressionanti, adesso al di là della variante indiana, ma insomma sentire parlare di una quantità di casi giornalieri paurosi che vuol dire una quantità di morti al giorno che veramente è una cosa drammatica. qualcuno mi ha parlato di 60.000 morti al giorno, comunque vabbè a parte questa cosa qua pensiamo un po' non che non dobbiamo pensare all'India perché qui il mondo purtroppo è globale e purtroppo il Covid ci ha insegnato che siamo tutti dentro la stessa barca, però voglio fare due domande a lei Andreone, io voglio a questo punto approfittare da uomo della strada, devo approfittare del super professionista, mi deve permettere. Le posso dire con sincerità una perplessità che mi sta diventando grossa e anche un po' diciamo angosciosa. Vorrei parlare del una dose di vaccino. Io ho degli amici, ho dei conoscenti, ho delle persone che hanno fatto la prima dose del vaccino e dopo due mesi dalla prima dose del vaccino, queste persone ad oggi io ne conto sette. Facendo quest'analisi che doveva far vedere quanti anticorpi erano attivi, analisi che va da uno a cento, così ci diamo anche un parametro, dove qualcuno mi ha spiegato che il minimo indispensabile deve essere almeno 40-45 perché funzioni un po', dopo due mesi abbiamo persone che stanno a 12 e persone che stanno a 28. A 28 tra queste sette persone quello che ne ha di più, cioè praticamente è come dire che dopo due mesi dalla prima dose fatta di AstraZeneca in questo caso, questi signori sono coperti o non sono coperti? E le faccio questa domanda così poi chiudo perché sono spaventato dall'Inghilterra. In Inghilterra si è fatto tanto chiacchierare di una prima dose, la seconda dose qualcuno ha già passato addirittura i tre mesi e non l'ha ancora fatta. Io non vorrei che stessero dando un grande vantaggio al virus, un po' come si fa quando non si prendono gli antibiotici nella maniera giusta, sono batteri ma mi sembra di capire che il virus potrebbe essere anche più intelligente. Chiudo qua, prego. La domanda è intelligente e giusta, devo dire che però una risposta diciamo parziale è quello che è successo in Inghilterra, cioè in Inghilterra stanno a un numero di morti che si conta sulle dita della mano diciamo, per cui evidentemente il vaccino funziona anche con una singola dose. La domanda, la risposta un pochino più tecnica è questa diciamo, il vaccino in alcune schedole vaccinali ma nell'AstraZeneca, nel Pfizer, nel Moderna è così, non è così nel Johnson & Johnson è prevista una prima dose. La prima dose serve a innescare l'immunità, quindi l'immunità anche se non ha raggiunto un livello che noi chiediamo, diciamo di protezione, i numeri che lei ha detto sono dei numeri giusti, cioè il numero degli anticorpi apparentemente è basso, ma quell'innesco è sufficiente a far sì che se il virus per caso ci infetta, quegli anticorpi partono e diventano tantissimi, quindi quel numero piccolo serve a dire che comunque l'immunità è stata messa in guardia, quindi è pronta a reagire se per caso arriva il virus e la dimostrazione di questo è quello che è successo in Inghilterra. Ok, quindi lei dice che anche se non abbiamo diciamo un numero che ci dice ok sei totalmente immune, come quando avrai 60, 70, 80 o 100, però già in questa maniera il nostro organismo avrà una reazione al virus importante e questo lei dice anche scientificamente, ne possiamo avere risposta e prontezza dal fatto che UK a oggi con il numero di vaccini che hanno fatto nonostante siano una dose le cose stanno funzionando. Le faccio però la seconda domanda, i UK si stanno allargando perché stanno andando oltre i tre mesi. Il vaccino è stato provato per una prima dose come lei dice che è l'innesco e poi la dose diciamo che fa partire, che completa tutta l'operazione. Ora, io non so se i virus si comportano similbatteri, però so che un antibiotico preso male crea delle volte dei batteri imbattibili. Il virus che fa? Quando entra dentro a un corpo che ha una sola dose si stordisce, si ubriaca, ma poi diventerà più forte o muore e basta? Una domanda da uomo della strada. Ma lei è un imprenditore, da uomo della strada fa domande molto sottili e molto intelligenti, diciamo. Io sono d'accordissimo con lei, cioè il vaccino è stato testato, è stato sperimentato con diverse possibili schedule vaccinali. Quella che si è dimostrata più efficace prevedeva un richiamo al terzo mese. Cosa succede se noi ritardiamo questo richiamo a 4, 5, 6 mesi o non lo facciamo affatto? Possiamo giocare sul fatto che comunque il virus circola e quindi circolando ci rinfetta e funziona come se fosse la seconda dose. Questo va bene, ma non è quello che accade in Inghilterra perché il virus non sta circolando più. Quindi questo richiamo naturale non legato al vaccino non ci possiamo contare. E allora cosa accadrà a queste persone quando noi ritardiamo e vacciniamo dopo 6 mesi o 9 mesi o un anno? Difficile rispondere, però probabilmente avranno una risposta immunitaria più debole. Quindi effettivamente per ottenere un vantaggio immediato rischiamo di perdere diciamo quello che è il vantaggio a lungo termine. Quindi probabilmente non possiamo dilazionare troppo perché si rischia ogni volta di ripartire con la prima dose, cioè di non utilizzare quell'innesco di cui parlavamo prima. Ecco, a proposito di questo mi viene naturale farle immediatamente un'altra domanda. Io ho visto che si parla di passaporto vaccinale, lo voglio dire così in parole molto misere, che però ha una durata di 6 mesi dalla prima dose del vaccino o dalla seconda. Qualcuno mi ha detto dalla prima. Vabbè, ma 6 mesi. Ora, la domanda è, a oggi la comunità scientifica internazionale si trova d'accordo sul fatto di pensare quindi che dal settimo mese al decimo mese i nostri anticorpi perdono la loro potenzialità? Ma guardi, allora evidentemente lei si deve rifare a quella che è la storia che noi conosciamo di questa malattia. Allora, tenga presente che le sperimentazioni con il vaccino sono partite nel giugno del 2020, con poche persone arruolate e non con grandi numeri. I grandi numeri sono stati fatti a ottobre-novembre del 2020, quindi noi oggettivamente quello che succede come durata di immunità in seguito alla vaccinazione ad oggi non la sappiamo. Quello che noi sappiamo è uno studio che, le dico, è uscito una settimana fa, che dice che quando c'è un'infezione naturale, e quindi un'infezione occorsa, diciamo, naturalmente, quindi non parliamo di vaccinazione, abbiamo i dati che ci confermano che le persone sono protette a 7 mesi dall'infezione naturale. Dice, ma 7 mesi e basta, e dopo che succede? Dopo non lo sappiamo, cioè questa immunità può durare un anno, può durare due anni, può durare otto mesi. E quella del vaccino è la stessa cosa. Noi in questo momento non abbiamo idea di quanto durerà. Diciamo che dalla cinetica della caduta degli anticorpi, cioè come gli anticorpi vengono persi, dovremmo dire che l'immunità del vaccino, di un vaccino fatto completamente con le due dosi, dura almeno un anno. Ok, quindi Andreoni, ad oggi diciamo che noi abbiamo delle analisi fatte su chi ha avuto la malattia. Chi ha avuto la malattia, dopo 7 mesi i suoi anticorpi pare non siano così, insomma, prestazionali. Invece, per quanto riguarda il vaccino, stimiamo un anno. Però qui devo farle una domanda. Ad oggi abbiamo tante persone nel mondo vaccinate e credo che queste persone saranno controllate, o ci sarà un gruppo di queste persone che saranno comunque controllate. La famosa quarta fase, insomma, della sperimentazione di un vaccino, quella fatta sulla grande popolazione. Ad oggi abbiamo iniziato quindi a dicembre in tutto il mondo. Quindi ad oggi abbiamo quattro mesi, diciamo, gennaio, febbraio, marzo e aprile. Sbaglio? Ho detto una bestialità? No, no, ha detto la cosa giusta. Cioè, sulle vaccinazioni di massa, non quelle fatte su poche persone per la sperimentazione, ma sulle vaccinazioni di massa l'Inghilterra, che è stata la prima a partire, è partita ai primi di dicembre. Quindi dobbiamo dire che abbiamo quattro, cinque mesi di storia sulle spalle. Quindi quello che noi diciamo dura circa un anno, è fatto sulla valutazione di quanti anticorpi si perdono mensilmente. Per cui noi diciamo siamo arrivati a mille, se sappiamo che si perdono 80-100 anticorpi ogni mese, possiamo dire che probabilmente fino alla fine dell'anno arriviamo con gli anticorpi. Questa valutazione è un po' così approssimativa. Vabbè, certamente, la faremo con calma. E non è che cadono secondo una regola fissa, per cui magari si perdono molto nei primi mesi e poi invece si stabilizzano e rimangono per molti anni. Per cui voglio dire, diciamo almeno un anno di vaccinazione dovrebbe reggere, poi magari scopriremo, e lo speriamo, che durino due anni o tre anni. Massimo, come al solito, dipende anche dalle caratteristiche genetiche del singolo soggetto, anche questo? Assolutamente sì, magnifico. Ti posso chiamare magnifico, sì, diciamo, sei magnifico. Mi credo, sì. A questo punto io vado via. Arrivederci. Noi a livello accademico così ci rivolgiamo ai rettori, per cui voglio dire, lo spiego ai telespettatori. No, però adesso a prescindere tutto, diciamo, è così, ovviamente la genetica della persona, l'immunità della persona, svolgono un ruolo fondamentale. Noi abbiamo visto all'interno di famiglie due o tre persone che si ammalano e due persone che non si ammalano, diciamo, no? Questo semplicemente a dimostrare di come la genetica ti può proteggere o ti può anche peggiorare l'evoluzione. Abbiamo visto persone che hanno degli andamenti più gravi, più progressivi, proprio perché hanno una genetica che favorisce l'espressione della malattia. Questo si inizia a capire, ci sono dati anche a Tor Bergata, col professor Novelli, l'abbiamo studiato e l'abbiamo visto, diciamo. Ci arriviamo a quella domanda, dopo quella però che farà? Sì, io volevo tornare alla stretta attualità, professore. Cos'è che, uso il plurale perché non solo lei, ma anche i suoi colleghi si sono espressi in tal senso, cos'è che temete da questa fase di riaperture parziali, di zona gialla, insomma del rischio calcolato come l'ha definito Mario Draghi? Guardi, ci sono due cose sostanziali, diciamo, questa qui è una malattia strana, una malattia che stiamo imparando a conoscere, ma alcune cose le abbiamo capite. Ogni volta che noi, diciamo, apriamo un po' troppo le porte nel senso figurato di dire che diamo maggiore autonomia alle persone, maggiori possibilità, a distanza di tre, quattro, qualche volta sei settimane, vediamo un rebound e la malattia parte. Basti vedere quello che è successo in Sardegna, diciamo, no? Era diventata zona bianca, nel giro di due settimane si è trasformata in zona rossa, continua a essere in zona rossa, perché per spengere l'incendio che abbiamo determinato ci vuole molto tempo. Questa è una preoccupazione reale, perché questo vuol dire numero di morti maggiore di quello che sennò ci sarebbe. Ma la seconda enorme preoccupazione, ancora più forte di questa, è il fatto che se noi permettiamo di circolare al virus, e soprattutto in una fase in cui stiamo vaccinando, questo virus che naturalmente ha le capacità di mutarsi, cioè ogni volta che va in conto a nuove infezioni, cioè si trasmette, naturalmente si muta, naturalmente forma quelle che vengono chiamate più o meno correttamente nuove varianti. Ecco, se per caso in questo che è un fenomeno ineluttabile, strettamente legato a quanto il virus si trasmette, più si trasmette, più avremo varianti. Se per caso si creasse una variante resistente al vaccino, ecco, avremmo annullato con un colpo di spugna quello che abbiamo fatto fino a oggi. E questo credo che noi tutti non ce lo possiamo permettere. Però questo è un tema molto importante e ci ricollega all'inizio della conversazione con lei dove siamo partiti dall'India, quindi da uno scenario internazionale. Sappiamo bene che i vaccini non stanno arrivando ovviamente in ogni parte del mondo. Ci sono delle aree depresse economicamente, socialmente che non avranno questi vaccini. L'India, ricordiamoci sempre, però che è la prima produttrice di vaccini nel mondo. No, no, ma l'India è un altro discorso. Io parlavo proprio del discorso che usciamo dai confini. Ecco, ma lasciare queste aree del mondo senza vaccinazioni è un rischio planetario proprio per quello che diceva lei, cioè queste mutazioni che potrebbero esserci e che potrebbero... Andreone, prima di rispondere vorrei aggiungere una cosa a quello che ha detto lui, perché qui non bisogna andare troppo distante per trovare chi non si vaccina. Ricordiamoci che i vaccini si fanno dai 18 anni fino ai mille. Quindi tutti i 20 milioni di italiani che hanno da 18 anni a zero non sono vaccinati. Il virus dentro di loro continua a girare? Ottime domande. Allora, partiamo da una prima cosa. All'inizio il nostro imprenditore ci aveva fatto una similitudine parlando degli antibiotici si prendono bene o si prendono male. Questa affermazione è molto corretta sui vaccini. cioè quando noi stiamo vaccinando in realtà non in maniera sufficientemente rapida noi creiamo una pressione al virus cioè quando noi abbiamo vaccinato poche persone il virus che inizia a circolare con stento cioè ha difficoltà a passare da persona a persona perché trova persone immuni vaccinate cerca a maggior ragione di sfuggire a quella che è l'immunità delle persone che si sta creando. quindi cerca di mutare in maniera mirata cioè cercando di trovare delle varianti che magari si trasmettono meno bene però riescono a vincere l'immunità che si è creata. Allora questo che cosa vuol dire? Che paradossalmente in India dove noi lasciamo libero il virus di circolare grandemente perché non c'è il vaccino lì il virus tenderà a rimanere in qualche modo a fare quelle mutazioni che non sono mirate a sconfiggere l'immunità vaccinale ma è soltanto dell'immunità che si creano casualmente. In Italia in questo momento la situazione è molto più pericolosa perché noi stiamo vaccinando ma non in maniera sufficientemente rapida e numerosa e questo è un problema perché noi lo dobbiamo fare. Poi giustamente lei mi fa notare ma il mondo è globalizzato quindi quello che succede in Italia succederà l'abbiamo già visto la variante inglese è arrivata in Italia la sud africana è arrivata in Italia la brasiliana è arrivata in Italia l'indiana è già arrivata in Italia quindi quello che succede nel mondo succede da tutte le parti e questo vuol dire che la sanità deve essere globalizzata pensare a vaccinare tutti quanti in Italia e magari vaccinare il 10% della popolazione indiana è una pazzia il vaiolo si è sconfitto creando una vaccinazione obbligatoria in tutto il mondo con un documento che doveva testimoniare l'avvenuta vaccinazione per il vaiolo se tu volevi girare in qualsiasi parte del mondo questo deve diventare evidentemente il progetto che noi dobbiamo stabilire certo tutto sta avvenendo così rapidamente che capisco che sembra una cosa quasi impossibile a realizzarsi però è questo è quello che si deve fare Andreone e qui entriamo un attimino nella adesso direi terzo tempo parliamo di qualcosa di positivo nel senso che i vaccini che abbiamo oggi a disposizione e ormai cominciano ad essere tanti ma ce ne sono almeno due che hanno un certo fascino perché lavorano sul nostro RNA e ci dicano anche che sono modificabili in due o tre mesi cioè il virus cambia velocemente ma anche noi sappiamo cambiare velocemente oltretutto nell'ultimo anno questi vaccini RNA sono già diciamo al secondo modello di vaccini RNA uscirà a breve un vaccino tedesco che sarà molto più prestazionale rispetto ai vaccini RNA che abbiamo avuto sino ad oggi e sarà anche più facilmente modificabile cioè 20 giorni dall'azienda per cambiare allora voglio dire l'uomo si è messo in questo momento di buzzo buono sare dire io a combattere questo virus però ci mancano le fabbriche che producono questo virus secondo lei qual è l'azione che l'Italia l'Europa che noi dovremmo fare per non trovarci sprovveduti nei prossimi mesi perché non possiamo continuare ad andare avanti stando chiusi qualcuno fra un po' insomma o va a rubà o non sa più come mangiare no no io questo lo capisco e ovviamente chiedo scusa ma io parlo sotto l'aspetto medico epidemiologico ovviamente rispetto assolutamente quelle che sono le scelte politiche sociali le difficoltà delle persone ecco io sono un po' stanco di fare questa parte del cattivo come se volessi vedere e fossi disinteressato lei parla di scienza e non parla di economia quindi ascoltiamo il discorso scientifico poi io dico sempre mi scusi che a livello io lo dico imprenditoriale forse avremmo dovuto a livello politico ed imprenditoriale trovare il modo giusto per poter vivere normalmente in mezzo a questa pandemia perché è inutile che ci prendiamo in giro se io comincio a baciare 40 persone di fila è chiaro che il covid me lo prendo e quindi più gente frequenti è peggio stai insomma mi sembra abbastanza chiaro prego io sono d'accordissimo con lei io credo che se noi tutti imparassimo a rispettare maggiormente le misure e ci sono tanti esempi al mondo che l'hanno dimostrato sicuramente avremmo potuto vivere meglio forse con meno sofferenze per tutti quanti diciamo ecco quindi su questo io sono sono d'accordissimo con lei per cui è un problema di educazione certamente alcuni paesi che noi portiamo come esempio in termini epidemiologici ci sono paesi nel quale nessuno di noi vorrebbe vivere perché poi ci sono tanti altri aspetti assolutamente negativi però voglio dire l'educazione sanitaria l'educazione civica è un qualche cosa che il nostro paese deve imparare nuovamente a ricordare e a conoscere diciamo ecco però voglio dire detto tutto questo è chiaro che sotto l'aspetto epidemiologico noi dobbiamo smettere di far circolare questo virus questo è quello che è quello che dobbiamo fare abbiamo bisogno probabilmente questo è un virus che non ci abbandonerà questa cosa che sembra drammatica vuol dire semplicemente che noi dobbiamo imparare a convivere con questo virus come abbiamo convissuto e come conviviamo con tantissimi altri virus e quindi vengo alla sua domanda dobbiamo creare industrie che sono in grado di preparare questo virus e questo vaccino mi scusi diciamo ne abbiamo già no? già in Cina ci pensano a preparare le industrie che fanno il virus sì loro lasciamo preparare il virus e noi prepariamo il vaccino ma volevo farmi degli amici oggi ho scelto cinese no no ma stiamo scherzando è anche bello scherzare anche se si parla di cose molto serie e tristi però è chiaro io sono d'accordo con lei se noi entriamo nell'ordine di idee che dobbiamo avere una preparazione per confrontarci con questo virus dobbiamo pensare che probabilmente per qualche anno ogni anno ognuno di noi si dovrà vaccinare e quindi questo vuol dire avere delle industrie che ci preparano il vaccino e questo è un po' il piano pandemico mi scusi ma non passo di pale in frasca diciamo quando si dice non avevamo un piano pandemico pronto non voleva dire che dovevamo essere tutti armati con l'elmetto pronti a sconfiggere il coronavirus ma voleva dire avere un'idea esatto avere laboratori pronti per fare i test avere delle industrie eventualmente convertibili pronte a fabbricare il vaccino questo era il discorso diciamo e devo dire che alcuni paesi che avevano il piano pandemico e io l'avevo studiato e ho fatto anche una relazione 3-4 anni fa al congresso nazionale di malattie infettive proprio sul piano pandemico e parlavo degli Stati Uniti d'America e della Corea del Nord che avevano fatto un piano pandemico ed erano pronti con l'industria a fabbricare vaccini per eventuali virus che fossero circolati questo è il piano pandemico non è altre cose essere pronti all'evento diciamo e avere quello che serve in quel momento senta professore a proposito di questo quanto il mondo scientifico si aspettava prima o poi una situazione di questo tipo cioè voi come la valutavate che valutazione davate di questo scenario una cosa fantascientifica improbabile o era qualcosa di cui si discute scusi Andreone posso rispondere io prima di lei perché lui fa il giornalista però si vede che ogni tanto allora mi dica Andreone dove sbaglio negli ultimi 100 anni partendo proprio dal 18 quando abbiamo avuto la spagnola e arrivando ad oggi sbaglio se dico che abbiamo avuto almeno altre 5 pandemie che non ci siamo nemmeno accorti che sono passate due o tre ce le siamo evitate vedi la viaria che fortunatamente si è fermata un po' distante da noi perché è troppo devastante e troppo cattiva ma se arrivava da noi faceva dei danni importanti oppure abbiamo avuto Ebola altrettanto devastante ma si è fermata in Africa prego Andreone volevo dare un insegnamento no 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 ha dato un buon insegnamento nel senso poi abbiamo l'HIV l'HIV è stata ed è una pandemia mostruosamente grave nel nostro mondo ed è iniziata 40 anni fa e quindi voglio dire 1981 quindi voglio dire non è che non ce ne sono state devo dire qui si fa sempre il rischio di fare o voler fare bella figura cioè dire che noi ricercatori ce l'aspettavamo ma questa è assolutamente la verità cioè tenga presente che noi dal 97 al 2017 abbiamo avuto 25 focolai epidemici di nuove malattie cioè nuove malattie scusi dal 97 al 2017 esatto 20 anni quindi in 20 anni io lo dico perché è una diapositiva che faccio sempre vedere la mia quando faccio le relazioni le lezioni agli studenti e ho smesso di rinnovarla allora questo che cosa vuol dire che ci sono stati in 20 anni una quantità di nuove infezioni comparse legate alla trasmissione da animale all'uomo oppure alcuni microrganismi o batteri che si sono diventati talmente resistenti ai farmaci che sono come fossero nuove malattie la tubercolosi faccia conto in questo momento ci sono batteri tubercolari che hanno sviluppato resistenza a tutti gli antibiotici che possediamo ed è come se fosse una nuova malattia a tutti gli effetti perché è un microrganismo sì conosciuto ma nel quale siamo del tutto impotenti Andreoni però non ci dia tutte buone notizie non ce le dia tutte insieme perché mi ha già spaventato questo fatto ma questa era una notizia di cui informavate i governi cioè o rimaneva nel circolo diciamo della scienza allora arrivo al dunque qual è stata la buona notizia così rispondo all'imprenditore impertinente che mi voleva richiamare diciamo allora la buona notizia era che questi questi microrganismi hanno poco imparato il passaggio da uomo a uomo quindi soprattutto quelli da animale a uomo hanno imparato faccia conto la merse no? la merse questa malattia sempre dovuta a un coronavirus che è del sud-est asiatico e sono circa dieci anni che circola tra di noi passa dal dromedario all'uomo mediamente uccide l'uomo poi raramente è passata da uomo a uomo quindi sono delle epidemie che fanno anche questo salto di specie come diciamo noi animale uomo ma poi si bloccano lì perché non imparano a fare l'ulteriore passaggio abbiamo alcuni virus aviari e poi smetto di fare il professore abbiamo alcuni virus aviari come l'H5N1 l'H7N9 che dall'uccello sono passati all'uomo sa che mortalità hanno queste infezioni del 50% 53% e 35% nell'ordine che hanno colpito circa mille persone quindi con un'azione devastante noi parliamo di una mortalità del 3% da coronavirus e probabilmente molto più bassa professore sbaglio se però prego no dico sbaglio se dico che forse ci siamo salvati fino ad oggi da questi virus che lei ha appena citato proprio perché sono estremamente devastanti cioè hanno una mortalità altissima insomma assolutamente sì questo concetto che i virus che uccidono troppo poi non si riescono a diffondere troppo è un concetto diciamo interessante ma reale anche comprensibile diciamo del perché questo accade però questo per rispondere alla domanda vuol dire che noi lo sapevamo che questo possibile rischio tra tutte queste tantissime microepidemie che stavano accadendo potesse accadere che qualcuno di questi si imparasse invece a fare quest'ulteriore diffusione da uomo a uomo magari per via aerea che è quella più temuta questo era tra virgolette atteso quando dicevo prima della Corea degli Stati Uniti d'America che avevano fatto un piano pandemico non è l'hanno fatto soltanto perché sono ricchi o perché sono in qualche modo interessati a questo ma l'hanno fatto perché era una cosa assolutamente attendibile e quando l'organizzazione della mondiale della sanità ci ha detto preparato un piano pandemico non era un'esercitazione accademica era un qualche cosa perché questo si temeva che accadesse Andreone se lei avesse ancora qualche minuto ce l'ha un quarto d'ora ancora per stare con noi perché io farei se lei ce l'ha la vorrei avere insieme anche al dottor Marco Antonellis no scusi al dottor Massimo Scacca Barozzi che è presidente di Farma Industria un quarto d'ora ce l'ha? non più di un quarto d'ora adesso scendo tra il gradimento dell'audience probabilmente perché io sono un tifoso della Lazio e quindi ho perso un primo tempo però un quarto d'ora però un quarto d'ora glielo devo rubare allora se se facciamo entrare c'è un intervallo se sfacciamo entrare il nostro secondo ospite perché buonasera buonasera dottore non lo sento non lo sentiamo non ci sento non ci sento allora no perché ho voluto questa cosa insieme perché mi piace vorrei domandare l'incontro tra l'industria e la scienza bravissimo dato che la scienza da tempo ha detto e ha comunicato alla politica attenzione che comunque i virus arrivano ne sono arrivati sin troppi in vent'anni allora voglio capire l'industria ad oggi quanto tempo ci metterà in questo momento dove è arrivato quello serio di virus a organizzarsi per poter rispondere poi in maniera concreta e vorrei capire anche la capacità di investimento perché perché l'ultima volta che ho sentito parlare di industria che produce che produce vaccini devo parlare di investimenti per 20 milioni di euro non si deve parlare di investimenti di 12 miliardi ma 20 milioni di euro siamo riusciti? perché la partita della Lazio intanto scorre vince la Lazio 1 a 0 vince quindi tutto a posto le conviene rimanere con noi professore contro il Milan contro il Milan una bella partita senti nell'attesa del collegamento un'altra cosa che può interessare perché abbiamo anche sentito qualche caso magari raro in cui persone vaccinate hanno poi contratto il virus perché questo da quanto ho capito io può succedere però l'altra considerazione generale questo ti chiederei cioè comunque se hai fatto il vaccino e lo prendi è molto difficile è improbabilissimo che ti prenda in forma grave in forma questo ci puoi tranquillizzare perché questa è già una cosa importante qualcuno però io so che non sta benissimo non è grave sentiamo sì allora due cose la prima quando noi diciamo che un vaccino funziona diciamo il 95% funziona il 95% vuol dire che c'è un 5% di persone che si ammalano nonostante la vaccinazione parlo del termine ammalarsi diciamo quindi fanno la malattia ovviamente il vaccino non è che crea uno scudo nei confronti del virus il virus entra dentro di noi pure se siamo vaccinati prova a replicarsi ma dopo poche replicazioni i nostri anticorpi lo fagocitano lo uccidono lo arrestano quindi noi siamo sottoposti comunque all'infezione è che questa infezione non riesce ad andare troppo avanti e quindi non riesce a dare la malattia perché non si riesce a replicare il discorso interessante è se queste poche replicazioni che noi gli permettiamo di fare sono sufficienti per trasmettere comunque la malattia ad un'altra persona che è un discorso molto importante perché evidentemente se così fosse il vaccinato comunque non arresta la circolazione del virus quello che possiamo dire oggi è che questi anticorpi sono così bravi così pronti che fanno replicare talmente poco il virus che non riusciamo comunque a trasmetterlo ad altre persone se non in pochi casi quindi il vaccino funziona molto bene sia nel proteggerci dalla malattia probabilmente anche nel ridurre la circolazione del virus Andreoni che cosa sa dirci lei della sperimentazione per il vaccino per chi ha meno di 18 anni dunque questo il dottor Scacca Barozzi probabilmente ha informazione migliore delle mie però quello che so io si sta sperimentando sulle persone tra i 12 e i 18 anni quindi si stanno facendo sperimentazioni nei soggetti più giovani io ritengo che non ci sia motivo di pensare che anche nei più giovani il vaccino funziona per quello che si è detto prima evidentemente in termini epidemiologici dobbiamo vaccinare anche i soggetti più giovani se vogliamo veramente arrestare la diffusione del virus perché sarebbe stato poi interessante parlare anche delle persone che non lo prendono questo virus perché sono altri soggetti c'è un DNA particolare comunque abbiamo il dottor Scacca Barozzi con noi buonasera buonasera dottore buonasera e allora forse dicevo qui la domanda che abbiamo fatto adesso al professore Andreoni forse andava fatta a lei lei che cosa ci sa dire della sperimentazione dei vaccini su chi ha meno di 18 anni beh diciamo che all'inizio in una fase pandemica io ho sentito cosa ha detto il professor Andreoni ha ragione in una fase pandemica ci si è concentrati perché bisognava fare una corsa contro il tempo per fare degli studi per arrivare a dei risultati in tempi rapidi sulla popolazione adulta però sono in corso attualmente degli studi anche per valutare l'efficacia ma soprattutto la tollerabilità del vaccino anche nei ragazzi giovani quindi sull'efficacia credo ci siano pochi dubbi però è giusto fare gli studi perché gli studi devono dare quelle conferme dare quelle garanzie che poi le autorità valuteranno per consentire l'impiego anche su questi soggetti dottore quanto tempo dureranno ancora queste valutazioni queste sperimentazioni perché per me è un dato importante riuscire a vaccinare gli studi gli studi clinici sono studi che dipende molto dalla popolazione che si riesce a reclutare ma dipende anche molto da come vanno gli studi io credo che ci vorrà ancora sicuramente qualche mese perché poi dopo bisogna valutare tutti i dati bisogna reclutare si usa questo termine che magari è poco simpatico ma bisogna ruolare o reclutare un certo numero di soggetti per produrre una casistica importante pensi che oggi noi abbiamo gli studi che sono stati fatti per gli adulti che hanno reclutato addirittura 45-50 mila persone quindi anche da questo punto di vista bisogna arrivare a produrre una casistica importante perché diano dei dati che siano replicabili poi sulla popolazione possiamo dire che se sugli adulti è scattato tutto il meccanismo giugno dicembre sui ragazzi poter parlare di aprile dicembre è plausibile insomma sì per il prossimo anno io credo che sia plausibile poi adesso gli studi stanno correndo più velocemente quindi ci auguriamo che anche da questo punto di vista vengano prodotti dei dati molto interessanti ecco il professore Andreoni ci stava dicendo che negli ultimi vent'anni o meglio una statistica di vent'anni se non ricordo male 99 mi ha un po' spaventato 25 quanto? 25 dico bene 25 25 virus nuovi 25 virus nuovi mi sembravano già tanti uno figuriamoci 25 comunque ce n'è più di uno l'anno comunque in vent'anni sono arrivati 25 virus noi in Italia abbiamo poche che io sappia ma lo chiediamo a lei abbiamo poche aziende che producono vaccini o ne abbiamo invece prima domanda ma allora il nostro paese da sempre ha partecipato alla corsa internazionale sia per la ricerca che per la produzione di vaccini grazie a tutte le competenze che nel nostro paese ci sono un'accademia importante ma un network anche di collaborazione e devo dire che lo stiamo vedendo anche adesso con il tavolo strategico che è stato approntato dal Ministero dello Sviluppo Economico dal Ministro Giorgetti dire che non ci sono produzioni di vaccini non è corretto nel senso che non ci sono magari tante produzioni per il vaccino attuale per il vaccino per il coronavirus noi siamo un'app di produzione di vaccini importante per tutta l'Europa per esempio in Toscana dove abbiamo delle produzioni importanti il problema qual è che non tutte le produzioni vanno bene per tutti i tipi di vaccino noi per esempio abbiamo una produzione molto importante dei vaccini per le infezioni di origine batterica come quella che abbiamo in Toscana per questo virus che è un virus non ci dimentichiamo nuovo non si conosceva l'esistenza di questo virus fino a un anno fa quindi anche per questo vaccino ci vogliono delle macchine particolari non ce ne sono molte nel mondo perché si sta facendo una corsa e cosa è stato fatto il Ministero dello Sviluppo Economico abbiamo fatto un tavolo mi scusi dottore mi scusi dottore sì prego allora prima di tutto di quale vaccino stiamo parlando cioè queste macchine particolari che non ce ne sono molte nel mondo parliamo di vaccina AstraZeneca stiamo parlando parliamo dei vaccini in generale parliamo dei vaccini in generale perché questi vaccini sono nuovi sono stati scoperti poco tempo fa è stata una corsa contro il tempo sono arrivati questi vaccini e questi vaccini hanno un processo di produzione molto particolare sia quelli di AstraZeneca tutti i vaccini sia quelli a mRNA sia quelli a denovirus poi sono vaccini che pur rivolgendosi a una tecnologia magari nota perché anche l'mRNA all'inizio siccome noi siamo specialisti nell'evidenziare i problemi si diceva eh ma sono poco studiati le prime ricerche sull'mRNA si facevano già dieci anni fa quindi sono molto studiati però sono vaccini che sono arrivati dalla sera alla mattina sono arrivati molto in anticipo questi vaccini hanno bisogno di una produzione particolare non è come produrre un farmaco di sintesi chimica è una compressa si mette insieme il principio attivo gli ecipienti si comprime si fa il processo e in poco tempo viene pronta questi sono prodotti biologici faccio un esempio vado rapidamente a concludere per esempio quelli a mRNA bisogna trascrivere dal DNA la formula quelli ad adenovirus bisogna disattivare il virus poi dopo una volta preparata la sostanza attiva vanno messi nei bioreattori questi bioreattori devono fare proliferare le sostanze produrre decine e decine di migliaia di litri dopodiché ci sono processi di purificazione ci sono processi di filtrazione ci sono processi di infialamento primario di confezionamento secondario e non è detto che tutti i processi si facciano nella stessa azienda nella stessa linea di produzione c'è chi magari si può specializzare perché ha quel bioreattore c'è chi può far l'infialatura tutto questo processo dura dai 4 ai 6 mesi e per alcuni vaccini addirittura si può arrivare ad un anno perché ci sono per esempio il 70% di questi processi sono controlli di qualità quindi da questo punto di vista non era difficile farsi trovare uso un termine un po' forte impreparati perché bisognava anche qui correre sulla produzione chi ha sviluppato i vaccini man mano l'ha sviluppata ma poi cosa ha fatto ha fatto uno scouting in giro per il mondo per cercare di trovare aziende che avessero gli stessi bioreattori che fossero compatibili quindi è un processo complicato se mi ho confuso le idee no 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 lei non ci ha confuso almeno a me no io penso che Andreoni già fosse al corrente e gli altri due miei co-conduttori in studio ci proviamo no no non ci ha confuso le idee anzi ce le ha chiarite ora però scatta la seconda domanda dato che come no ci siamo trovati in questa maniera in quanto tempo ci potremmo mettere a posto e è cominciata questa corsa per metterci a posto sì allora intanto dobbiamo dire che già ci sono un paio di vaccini che hanno una parte della produzione in Italia si fa esattamente ad Anania si fa la parte dell'infialatura primaria con il Mise con questo tavolo si è fatto uno scouting su tutte le aziende abbiamo veramente scandagliato tutta l'Italia per capire se ci fosse la disponibilità di questi bioreattori se fossero compatibili modificabili e credo che i tempi siano maturi io poi abbiamo dato questo elenco al Mise il ministro con il suo staff li ha contattati uno a uno abbiamo tante aziende che sono pronti a fare l'infialamento però per infialare bisogna anche avere qualcosa di infialare importante prodotto finito e abbiamo già trovato il ministero ha già trovato quattro aziende che potrebbero essere in grado di e quindi li ha messi in contatto con i produttori originali di vaccini perché possano in qualche modo poi vedere se si possono in tempi rapidi diciamo fine anno inizio dell'anno prossimo avere le produzioni però ci stiamo lavorando questo è un passo avanti faccia a tutti e due una domanda assolutamente sì faccia a tutti e due una domanda professore professore Andreoni la Lombardia è notizia di oggi la Lombardia dice da ora soltanto i richiami per quanto riguarda il vaccino AstraZeneca cioè non lo utilizzeranno più per fare nuove vaccinazioni è un'idea giusta secondo lei questa o un'idea bizzarra beh diciamo bizzarra non mi trovo molto d'accordo diciamo il vaccino AstraZeneca è un ottimo vaccino è un vaccino con il quale alcuni paesi del mondo l'Inghilterra ma non solo hanno diciamo in parte controllato non dico sconfitto diciamo il virus quindi rinunciare a un vaccino importante secondo me è un gravissimo errore insista a dire i dati negativi su questo vaccino sono dei dati estremamente modesti su degli eventi del tutto eccezionali che forse Scacca Barrossi lo può precisare meglio di me avvengono per quasi qualsiasi medicina non esistono medicine che siano esenti in assoluto di possibili eventi eccezionali quando noi iniziamo a parlare di decine di milioni veramente non abbiamo idea che stiamo cercando un ago nel pagliaio e l'ago nel pagliaio se ci mettiamo a setacciare lo troviamo sempre diciamo ecco quindi rinunciare secondo me è un gravissimo errore io credo che sia un ottimo vaccino come un ottimo vaccino Johnson & Johnson che è appena arrivato come sono degli ottimi vaccini Moderna e Pfizer sono quattro fantastici vaccini Andreoni com'è che la Lombardia da sola decide qui non si fa più questo vaccino perché poi i Lombardi li voglio bene ma stanno in mezzo a noi sono anche 11 milioni quindi stanno sempre in Italia e no non vorrei che adesso dovessero aspettare poi tutte le dosi o ci levano loro tutti i Pfizer perché si è stabilito che in Lombardia si fa il Pfizer non lo so è una domanda Presidente ma guardi preferisco rispondere solo nei termini che comunque non è una scelta scientifica non è su basi scientifiche poi le motivazioni si possono trovare si possono dire ma dico che non sono motivazioni scientifiche ecco su questo mi sento di dirlo con tranquillità Cacca Barozzi lei che cosa dice? No io credo che la scelta sia dettata dal fatto che molti molti cittadini hanno ricevuto la prima dose per non correre il rischio che non si possa iniettare la seconda dose e quindi arrivare alla vaccinazione completa alcuni abbiano deciso che le scorte che hanno le usano per completare coloro che hanno già fatto la prima dose quindi non c'è una scelta scientifica dietro a questa scelta credo che sia effettivamente una scelta di tipo logistico per dire oggi noi abbiamo una numerosità di cittadini trattati con una dose se quelli lì gli teniamo da parte la seconda dose cominciamo perché ormai sono iniziate le vaccinazioni tempo fa e quindi queste persone sono già nell'ambito della tempistica per il richiamo e quindi credo che sia stata dettata da questa allora faccio una domanda a tutti e due a uno dal punto di vista come dire puramente scientifico e all'altro dal punto di vista scientifico industriale perché poi alla fine la scienza ha bisogno anche di questa situazione stiamo riaprendo qualcuno sta urlando a squarciagola attenzione che ci sarà la quarta ondata ora voglio essere chiaro con tutte e due perché da quando è partita sta storia in un anno se ne sono sentite di cose strane un'infinità ripeto l'ultima a gennaio quando io stavo con questa trasmissione e mi sentivo dire che in India era venuta l'immunità di greggio che gli indiani consumando più aglio avevano praticamente meno oppure non lo so erano più giovani oppure erano più forti oppure erano più fighi da di fatto che abbiamo scoperto che il virus si è organizzato e sta facendo purtroppo una strage chi sarà quindi questa quarta ondata veramente cioè è un fattore scientifico reale oppure qualcuno lo dice perché dice siccome c'è stato chi a gennaio di un anno fa ha detto non arriverà mai il covid qui da noi in Italia oggi non vogliamo far brutta figura è più facile dire che sicuramente arriverà quindi è un'ipotesi peregrina o è un'ipotesi vera chi comincia a rispondere la scienza o l'industria posso iniziare andiamo in ordine alfabetico va bene ok andiamo con la scienza lei mi ha messo un po' in difficoltà quando ha detto in ordine alfabetico perché io ho detto oddio adesso dimmi tutto l'alfabeto e se stanno anche in fondo prego vado avanti no no A e S quindi andiamo con facilità no devo dire a prescindere che a me non piace troppo questo concetto di ondata e non ondata cioè noi ogni volta che abbiamo ridato fiato al virus il virus è ripartito quindi le ondate le procuriamo noi e ne possiamo procurare cento mille di ondate basta riattivare un pochino il virus e lui riparte io penso sinceramente che se parliamo di ondata nei termini di grandi numeri spero credo che non ci sarà una ondata così devastante questo lo dico perché i vaccini comunque li stiamo utilizzando e funzionano lo dico perché stiamo andando incontro all'estate quindi sono ottimista nei termini che non avremo una ripresa mostruosa del virus con altrettanta diciamo però sicurezza devo dire noi stiamo dando ridando fiato al virus quindi che il virus in qualche modo si faccia risentire e riparta questo è certo poi se questa ripartenza fosse anche meno di oggi questo potrebbe anche accadere comunque vorrebbe dire che se noi avessimo mantenuto delle misure più restrittive avremmo avuto comunque dei numeri inferiori quindi credo che questo noi lo dobbiamo far capire alle persone anche perché le persone così mantengono quegli atteggiamenti corretti diciamo cioè questa partita non è una partita vinta diciamo se noi ridiamo fiato al virus comunque avremo dei morti così dico una cosa un po' faticosa a dirsi ma avremo dei morti dovuti a queste riaperture poi è una scelta che si può anche fare però di questo dobbiamo essere tutti convinti e dobbiamo tenere gli atteggiamenti più corretti possibili anche in queste dovute se vuole riaperture però insomma ecco di questo ne sono assolutamente convinto perché in 15 mesi mi permetta di dire questo l'abbiamo capito con assoluta tranquillità diciamo ecco ogni volta che abbiamo fatto un passino in avanti vedi Sardegna vedi Sardegna siamo tornati indietro io sono d'accordo su quello che lei dice io sono talmente d'accordo che penso che ad oggi non è stato fatto niente per riaprire in maniera intelligente cioè nell'ultimo anno e tre mesi ricadiamo sempre negli stessi identici errori nessuno ha fatto una vera programmazione per dire dato che dovremmo vivere nei prossimi tre, quattro anni cinque anni con questo virus forse dieci cominciamo a organizzarci sul serio cioè non soltanto chiudendo ma anche affrontando la realtà che non può essere quella della condivisione insomma per riabbracciarci tutti va bene e baciarci l'uno con l'altro forse dobbiamo aspettare dovremmo aspettare un po' di tempo sentiamo l'industria invece che cosa dice cioè il dottor Scacca Barozzi ma io dico semplicemente questo che siamo in un periodo in cui tutti parlano di tutto ma bisogna avere le competenze le conoscenze giuste per cui credo che più di me le abbia il professor Andreoni che ha detto delle cose molto corrette quindi dal mio punto di vista io posso solo dire che l'arrivo dei vaccini sicuramente sta aiutando e aiuterà però questo non significa che dovremmo abbassare le attenzioni e le cautere dobbiamo sempre avere prudenza però non voglio fare quello che parla di cose che non conosce io preferisco che le cose le dicano gli scienziati gli esperti che ha detto bene il professore bisogna far andare via il professore perché se no fra un po' comincerà a non essere più un professore e a maledirci interamente Andreoni noi la salutiamo come stiamo messi con la Lazio? 2 a 0 abbiamo controllato l'allocchio Andreoni deve rimanere con noi io voglio dire solo una cosa se adesso lei va a vedere la partita risultato cambia poi ci risentiamo vabbè io fossi lei non mi scontrirei giù da questo canale aspetta il presidente se il professore va a vedere la partita risultato cambia sono contento anch'io perché vado a vederla anch'io dopo aver visto un milanista ah qui abbiamo proprio Lazio Lazio Milano perché lei è del Milan presidente ah quindi stanno tutte e due coinvolti neanche a farla apposta allora grazie doppiamente per aver accettato l'invito pensate che amore per voi infatti grazie doppiamente per averci dato l'invito comunque grazie Andreoni io intanto saluto lei perché Scacca Barozzi lo devo torturare per altri dieci minuti arrivederla buona serata ringrazio voi ringrazio il magnifico per l'ospitalità e ringrazio il presidente Scacca Barozzi che conosco bene stimo molto perché è una persona veramente di qualità e devo dire ogni volta che che lo ascolto mi rincuora molto perché voglio dire spesso l'industria farmaceutica viene assolutamente attaccata sotto tanti aspetti invece persone come Massimo Scacca Barozzi diciamo dimostrano sempre come l'industria sta sempre ed esclusivamente dalla parte del malato e dell'utente questo ve lo posso dire lo dico con assoluta sincerità va bene io condivido condivido in pieno quello che lei ha detto arrivederci buonasera grazie 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 a voi a presto allora siamo rimasti in quattro siamo rimasti in quattro Scacca Barozzi ora che siamo soli ma le rubo veramente oggi cinque minuti però devo no no non è un problema no no vabbè ma perché ma ancora stanno giocando stanno giocando e adesso c'è stato secondo tempo secondo tempo hanno iniziato secondo tempo eh sì da quanto tempo? da poco 10 minuti 10 minuti 3 minuti 3 minuti e la mandiamo via no io voglio capire ma no no non è un problema guardi per quello che c'è da vedere stasera è meglio in effetti stasera guardi io ho visto ho visto cose tremende ieri la ternana perdeva poi riperdeva e poi alla fine ha vinto quindi tutto può succedere nel calcio la palla è tonda ricordiamocelo sempre va bene io volevo sapere una cosa quanto quanto costa oggi investire in una fabbrica che possa produrre un vaccino RNA dall'A alla Z è possibile non è possibile farla cioè l'Italia è indietro ed è giustificata stare indietro o potrebbe entrare in questo mercato perché io ritengo che questo sia un mercato che servirà per il prossimo futuro non solo per il covid-19 ricordiamoci che il principio di questi vaccini sarà utile forse spero in un prossimo futuro anche per la cura di malattie come i tumori o alcune basi tumorali quindi è una nuova una nuova era per la scienza direi una nuova era per il farmaco ecco allora noi italiani siamo un po' indietro quanto costa investire in questo tipo di settore beh può costare svariate anche centinaia di milioni io quello che voglio dire è che noi oggi abbiamo la fortuna di avere in Italia un'industria farmaceutica di eccellenza non perché ne faccio parte ma perché siamo i primi produttori di farmaci in Europa e non abbiamo rivali da tempo siamo diventati primi e anche come vaccini dicevo prima noi abbiamo degli hub per la produzione dei vaccini batterici importanti da questo punto di vista ci stiamo organizzando e credo che sarà importante organizzarsi perché credo che i vaccini saranno importanti non solo quelli per le infezioni virali perché credo che con questo problema noi avremo a che fare purtroppo anche nei prossimi anni o con dei richiami o perché comunque purtroppo questa non è stata la prima pandemia come diceva prima il professore ma ce ne saranno altre purtroppo e quindi è bene non farsi trovare impreparati però ci vogliono soprattutto dei tempi il costo è non solo economico per avere gli impianti il costo è importante anche perché sono costi importanti per la ricerca perché poi per produrre bisogna trovare qualche cosa da produrre pensi che l'AIDS sono più di 50 anni che c'è ancora il vaccino per l'AIDS non si è trovato ci siamo vicini ma ancora non si è trovato perché la ricerca purtroppo non è un percorso facciamo una parentesi su quello che ha appena detto ci siamo vicini ci siamo vicini è una frase importante ci siamo vicini perché è una stima che lei fa o perché ci siamo vicini sì sì no perché ci sono delle ricerche che stanno andando avanti e ci sono delle aziende che hanno già annunciato di avere degli studi abbastanza promettenti però vede dire che abbiamo degli studi promettenti e dire che abbiamo il vaccino ce ne corre perché un farmaco e un vaccino non è mai tale fino a che viene approvato da un interregolatorio che deve analizzare tutte le fasi della ricerca su come sono state condotte quindi al momento non possiamo dire che li abbiamo però la ricerca non si è fermata sono 40 anni che andiamo avanti e continuiamo ad andare avanti con grande fiducia grande speranza però vede qui siamo stati fortunati in pochi mesi abbiamo trovato il vaccino per altri casi è difficile quindi la ricerca purtroppo è un percorso che non ci dice mai se arriviamo in fondo e quando ci arriviamo certo sarebbe interessante però capire forse non domandandolo lei ma capire come mai si può trovare velocemente un vaccino per un certo virus mentre per un altro che poi guardi le dico una cosa se ne va sul sito dell'Organizzazione Mondiale della Sanità ci sono più di 170 progetti di vaccini per il coronavirus ce ne sono 88 fino a ieri o l'altro ieri e sono già in fase di sperimentazione sull'uomo oggi ne sono arrivati 4 e perché perché la ricerca purtroppo è così non abbiamo mai la certezza fino in fondo di sapere come e quando ci arriviamo va bene Presidente una domanda sull'incontro che c'è stato con il ministro Giorgetti per programmare quello che potrebbe essere un futuro di autosufficienza nella produzione dei vaccini che tappe vi siete dati che appuntamento vi siete dati come procederete ma noi ci siamo incontrati con una frequenza quasi settimanale perché dovevamo fare questa questa ricognizione noi abbiamo guardato insieme ad AIFA tra l'altro perché siccome tutte le fasi di una produzione farmaceutica devono essere ispezionate e approvate dagli enti regolatori anche AIFA ha tante conoscenze su dove sono queste macchine quindi abbiamo cercato di fare veramente un'analisi completa siamo andati anche a chiedere ai produttori di questi macchinari se li avevano disponibili se non li avevano dove li avevano piazzati se quelli che avevano piazzati erano possibili era possibile usarli per questo tipo di vaccino quindi da questo punto di vista io credo che è stato fatto un lavoro senza precedenti abbiamo stilato un elenco il ministero ha cominciato a contattare man mano queste aziende per capire chi era disponibile a infielare chi era disponibile a fare la principio attivo il bulk eccetera eccetera quattro aziende sono già state identificate come possibili candidati adesso ci sono in atto i contatti con coloro che hanno scoperto i vaccini per riuscire a vedere se magari tramite una produzione conto terzi però credo che prima del prossimo anno non se ne possa parlare perché i tempi sono questi va bene va bene noi la ringraziamo dottore per la sua precisione puntualità e per la risposta come dire serena sincera che lei ci ha dato su tutte le domande che le abbiamo fatto e per aver rinunciato anche alla partita per noi comunque io da romanista le dico forza ma non è un problema comunque io invece le posso dire che la capisco perfettamente nemmeno io sarei andato a vedere la partita Ternana-Catanzaro però vabbè è un uomo fortunato è l'unica che ha perso vabbè però allora lo sport è molto importante però credo che la salute sia una cosa fondamentale lo stiamo vedendo che cosa vuol dire quando non c'è la salute non c'è l'economia non c'è lo sport non c'è nulla quindi speriamo di uscirne veramente presto poi se vogliamo dircela questa partita bellissima Lazio-Milan nel senso una partita di quelle che si sentano è vuota non c'è nessuno allo stadio cioè dobbiamo ricordarci questo e invece sarebbe bene sarebbe bene sperare che un giorno qualcuno tornerà allo stadio perché calcio lo sport ecco lo sport lo sport in generale e anche vita essere insieme essere partecipazione va bene dottore la saluto la ringrazio buona serata arrivederci buona serata a tutti grazie dell'invito buona serata va bene andiamo un attimo in pubblicità cioè i soliti 30 secondi che durano un minuto grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.